ciao a tutti ragazzi bentornati per questo nuovo video sui consumi della toyota chr come al solito sono a mostrarvi quanti chilometri ho fatto dall'ultimo pieno ad oggi allora partiamo dall'ultimo rifornimento che ho fatto il 25 5 ero arrivato a 3.307 chilometri e ho caricato 35 litri oggi che è il 20 0 6 ho fatto 3957 chilometri lo potete vedere dai report che degli screenshot che ho fatto dall'applicazione drivo che utilizzo sul cellulare ho fatto praticamente 650 chilometri con questo pieno con 35 litri quindi cosa significa che grazie all'aria condizionata probabilmente con l'ultimo pieno sono riuscito a fare 18,57 chilometri con un litro reali voi sapete come sempre che io vado a fare rifornimento appena diventa gialla la tacca della benzina e quindi diamo un'occhiata al report 7 rifornimenti in 112 giorni la macchina mi costa l'incirca al momento 3,26 euro al giorno e come consumi medi siamo intorno ai 18 57 19 cioè chi quando ne ha fatti 21 cioè quando ne ha fatti 17 35 oggi siamo sull'ordine di 18 57 considerate che la macchina nuova e quindi probabilmente in futuro andrò a risparmiare qualcosina spero di esservi stato utile anche oggi qui tutte le foto che ho fatto con le varie istantanee alla fine corsa quando spegnevo la macchina e se avete bisogno di qualsiasi cosa non esitate a contattarmi ciao a tutti ragazzi la macchina e se volete Grazie a tutti